All'inizio sembrava un dolore tipo artrosi e quindi non ci ho dato peso. Ormai non riesco a stringere una penna. Figuriamoci guidare. Cosa mi manca di più? Il lavoro no. La forza di abbracciare. 400.000 persone soffrono di artrite reumatoide. Bloccala prima che ti blocchi. E puoi tornare a lavorare, viaggiare e vivere. Artrite reumatoide. Difficile da dire. Difficile da dire.